Siamo qui con il presidente della Genova Calcio e vogliamo da lui un'idea su quello che è stato il primo tempo, se è contento, se è soddisfatto della sua squadra. Se il buongiorno si vedeva mattino direi che siamo partiti col piede giusto, speriamo bene di poter sorridere stasera, quindi non voglio pronunciarmi oltre. Mi sembra che la squadra da quando si è passata in vantaggio abbia poi consolidato la sua leadership nella partita. Ma guarda, il Bayardo è una squadra imprevedibile, ha mille risorse, ha ottimi giocatori e quindi non bisogna vendere la pelle dell'orso prima di averlo ammazzato. Quello mai nel calcio. Aspettiamo la fine e poi vedremo. Ok, grazie al presidente Vacca.